Buongiorno a tutti, oggi è martedì 12 maggio e parliamo di analisi ciclica e evoluta su DAX e su Fuzzimib. Abbiamo avuto un'apertura che è stata tra virgolette peggio del provvisto perché erano positivi fino a ieri i future e invece abbiamo fatto un'apertura un pochino più modesta. Adesso bisogna vedere qui se si sta muovendo bene perché siamo dal vivo. Allora, mi è venuta in mente una cosa. Mentre mi stavo riguardando bene il DAX su candela appunto giornaliere notavo che siamo a 1, 2, 3, 4, 5 e la candela di oggi è la sesta, non la vedete, ma saremo a 6 candele. Ho pensato, ma perché prima di andare su non chiude il settimanale e poi va a salire sopra i top? È una possibilità, però non dovrebbe andare soltanto a chiudere un settimanale ma dovrebbe andare a chiudere un T più 1 ovvero un B settimanale e ciò richiede che cosa? Un sottociclo di 3 gradi inferiori, quindi un T-2. Per avere un T-2 ribassista, uno ribassista ce l'abbiamo già, il secondo basta che si vada qua sotto e diventa ribassista. Oltretutto essendo arrivato a 12 barre lo può fare tranquillamente entro 21-22, quindi entro le 11.30 se vuole fare di corsa come al solito oppure entro le 12 se vuole metterci un tempo canonico. Quindi se entro complessivamente 44 barre, a meno che non finisca il senso T-3, si andrà qua sotto, sotto il minimo a 10.740, successivamente potrà rimbalzare tranquillamente e andare appunto ai top che dicevo. Questa è l'idea che mi è venuta in mente questa mattina mentre riguardavo appunto i grafici. Quindi fattibilissimo, T-2 sarebbe dato da primo, quinto T-3 ribassista, secondo con violazione di questo, chiuso il T-1 settimanale e si potrebbe ripartire verso l'alto con tutta la tranquillità del mondo. Questa è la considerazione con la quale voglio fare trading questa mattina, anche perché qui è probabile che magari l'inverso si sia tranquillamente chiuso. Qui abbiamo avuto ancora troppe poche candele per lanciare qualche cos'altro, un secondo T-3 inverso, che può essere invece partito da questo massimo. Vediamo. Molto molto semplice comunque capire come operare oggi se non fosse corretta la mia considerazione, ovvero swing assoluto a 10.836. In caso di violazione nei tempi ciclici corretti, magari dopo un bel T-5 inverso ribassista, uguale, andiamo long. Mentre invece se andremo in violazione del minimo a 10.740 e lo faremo prima delle 18-20 candele, eventualmente, potrà aver senso, in base al tempo ciclico, andare short per la chiusura del T settimanale. Molto semplice? Sì, assolutamente. Sono prezzi estremamente lontani l'uno dall'altro? No, anche perché abbiamo 836, siamo a 30 tick da questo swing e siamo a quanto? 60 tick dal minimo, ok? 70 tick dal minimo. Quindi questa analisi serve per dirvi come potersi muovere con l'analisi ciclica evoluta se la conoscete bene. E come quindi, di nuovo, andare a fare un trade potenzialmente estremamente redditizio. Ma vediamo cosa succederà, perché qui siamo già a una bella candelina verde, ma ci saranno, come sappiamo, finte fino alle 10.01. Quindi, come al solito, osserveremo fino alle 10.01 che cosa succederà e poi faremo tutte le considerazioni del caso e ci muoveremo, come tutte le altre mattine, a meno che non si sia già dentro in overnight, oppure che effettivamente non ci sia un trade estremamente goloso e con forte possibilità di profit. Passiamo invece al Fuzimib. Sul Fuzimib considerazioni molto simili. Anche qui siamo al sesto T-3 di un settimanale sinceramente molto, molto, molto fiacco che si è contenuto per ora in 700 tick scarsi, anzi 600 tick scarsi, veramente molto poco, ok? E stessa identica cosa. Qui abbiamo già avuto la violazione dello swing, ma attenzione, siamo al sesto T-3, quindi io un long non lo farei in questo momento, anche perché probabilmente ha chiuso il sesto T-3 inverso e poi potrà ancora spingere verso il basso per far partire il secondo, anzi il settimo T-3 inverso. E siamo a 33 barre, potrebbe tranquillamente arrivare anche a 44, d'accordo? Ma in questo momento vediamo come chiude questa e che cosa succede, perché in violazione eventualmente di questi minimi, di quello a 17356 che fa da swing, io magari un cheap short lo butterei per andare a finire come target minimo sotto i 17307, d'accordo? Anche in questo caso stessa considerazione. Qui M-3 è ribassista, se questo diventerà ribassista, chiuderà il settimanale, ci sarà la condizione minima per la chiusura del settimanale, poi eventualmente in violazione di determinati swing si potrà tornare invece a risalire per andare sopra questo massimo, per, diciamo, soddisfare ciò che l'inverso in questo momento sta chiedendo. E anche per far partire eventualmente, soprattutto nel caso di Dax, un nuovo T inverso, perché questo effettivamente mi stavo dimenticando di dirvelo. Dato che qui siamo arrivati a 6 barre, settima barre, ottava barre discendente, perché abbiamo un T-2 a rialzo per quanto riguarda l'inverso, che lancia un nuovo T inverso, e se ci fosse ancora una terza candela, andrebbe a lanciare un nuovo T più 1 inverso. Ricordiamoci di queste considerazioni, d'accordo? Auguro a tutti una splendida giornata, ho già deciso che la mia sarà così, perché voglio vivere tutti i giorni bene. Statemi bene, e se l'analisi vi è piaciuta mettete il solito like, e una bella pacca sulla spalla. Arrivederci!